salve a tutti ragazzi benvenuti e bentornati sul canale di mise gioco piano e sull'ombra della guerra l'integrale abbiamo preso un altro paio di comandanti visto che è andato molto male il nostro il nostro combattimento contro l'avamposto l'incursione diciamo così intanto prendo questo verme già che siamo qui perché infatti è rimasto scoperto questo e poi questo che è sempre abbastanza distante un 15 ok perfetto quindi probabilmente abbiamo anche sbagliato ho sbagliato la strategia però però credo di poter migliorare la la cosa nella prossima nella battaglia e comunque io sto cercando di migliorare il tutto cercando di possedere un po di di comandanti così e magari di abbassare il potere che adesso è diventato troppo di alcuni comandanti che ci hanno battuto e ricordo che nel video precedente sono stato battuto due ben due volte non è facile comandare il cargo però per comandare nel senso di guidarlo però è un grande il cargo perché salta veramente da tutte le parti vai io intanto faccio partire questa missione che è sempre di come si chiamano ma no questa che così si 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 è sempre di di lotta insomma a in seguimento dettagli che cosa dicono infiammabile subisce veleno diventa confuso quando viene avvelenato e può essere si attacchi a distanza ok avviamo 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 scusate mi sono sbagliato vuoi prenderle adesso odio guardargli il di dietro è terribile non ce la farò mai a scappare mai sconfiggi blog dov'è ma dov'è ah eccolo sei lento sì in realtà la mia preta era un'altra ma sono un tipo flessibile sei anche un tipo piuttosto brutto direi ma scusa hai detto che era un'altra bravo però no ma dove va ma dove va ma madonna dove è andato eccolo ah ma congelandolo è una figata pazzesca bello che lo posso congelare così ma chi è questo qui ah ok dopo dopo pensa anche a te ma questo è felice della risoluzione immune appieno attacchi a sorpresa bandisce un'arma capace di maledire ah che pampine che mi dici di affrontare i miei no no ma non lo volevo uccidere volevo uccidere quell'altro accidenti però eh va bene è stato eliminato prima di poter uccidere la sua fredda livello ottenuto 1 punto di vista ottenuto e va bene rapporti di battaglia non ce ne frega che cacchio però eh datemi qualcuno da poter ciucciare però no ma scusa eh ah ok non ho capito gli ho ucciso il fratello che succede? non ho capito niente era mio e tutto un colpo è diventato nemico non funziona non giocare ah sei troppo dentro non doveva finire così la prossima volta sarai mio non vuoi per alcun stop allora questo qua è ritirata vieni datemi un un tizio da ciucciare eh si è ritirato veramente troppo non ce l'ho fatta questa volta vieni allora ce lo vogliamo riprendere questo qua questo capitano dai ok vediamo un po' se riesco a sperargli ai piedi bello così vabbè e allora combattiamolo mi cazano è finito qui hai ferito il dark ah va bene niente da fare missione fallita è un paio di video così dove le missioni falliscano con una bellezza intanto prendiamoci questo questi tra l'altro non li ho più controllati ma sono anche soldi bene allora sblocchiamo l'abilità vediamo un po' che cosa ci abbiamo di nuovo nel combattimento eh l'esecuzione brutali però no non mi interessano più di tanto almeno questo si è bellino sempre ma cacciatore di trofei raccoglie automaticamente il bottino dai nemici sconfitti bello lo voglio perché prima ci sono mezzo morto nell'inventario abbiamo questo che ci dà un po' di salute massima in più non tantissima e questo ah che nonostante concentrazione aumenta ancora e va bene allora vediamo un po' dove sta l'esercito sì noi stavamo andando qui oh si è spostato di là vediamo se ci abbiamo qualcuno qui nelle vicinanze da poter tra l'altro ci sarebbe questa 19 ma no direi di di abbassare il livello a questo perché veramente mi ha mi ha stancato e poi ci vado anche con chiamerò anche il come si chiama la mia guardia del corpo in modo da poter migliorare un po' le cosine speriamo tanto anche questo video si sta facendo video video si sta facendo un po' lungo ho saltato le frecce scusate a ricontrollo di aver guardato di stare andando nella zona nella giusta zona perché non non ne sono mica tanto sicuro vediamo un po' l'esercito sì ok no mi sembrava posizionato diverso va bene 1500 piedi sono tanti aspetta che qui ci abbiamo un verme abbiamo ancora qualcuno qui ah che in realtà è davanti a noi buono questo quasi quasi invece marchio lui prima di tutto bene ma che tutti insieme dai non mi rompete adesso che c'ho da fare non hai visto niente non mi prenderai mai vivo la di tirchela e poi ecco questa è l'ultima informazione di cui abbiamo bisogno esatto vediamo un po' eccolo lassù freccia 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 una freccia qua sotto dov'è ah no forse è proprio sopra invece no ma dai non sono riuscito a fare a dominarlo furtivamente va bene comunque ho preso le frecce allora c'è questa incursione cavolo c'ho due capitani anche piuttosto forti ricordate quando vedete un uomo giocate sporco loro lo faranno bene cerchiamo di essere veloci ed efficienti non come l'ultima volta vediamo un po' quali sono le situazioni a nostro favore può essere cavalcato quando brucia è confuso attacchi a distanza perfetto e questo invece danni dal fuoco quando viene colpito la testa e sempre attacchi a distanza perfetto allora qui però non c'è niente che esplorare che è quello a fare lì non so cosa sono allora lasciamo che si si ammazzino ancora un pochino fra di loro direi di far arrivare qualche cara che ora è infatti che c'erano già chi è che mi spara ok finalmente si attaccano ok chi è che mi io non capisco chi è che mi che mi sta attaccando uh il caragor aspetta voglio prendere un caragor dominare un caragor e scendi io detto ahia eri te allora il brutto schifoso che mi rompeva le scatole nooo stai ostacolando il nostro attacco e noi attacchiamo chi si metta in mezzo ma perché ma aspetta aspetta ma porca di quella troia no scusatemi ragazze ma non me ne sta andando bene una allora lo umilio grazie e comunque sarà troppo forte lo stesso 16 uh buono bene chiudi e fammi vedere un po' vediamo un po' ah ma questo è diventato già è diventato 17 ora cavolo perché chiaramente ah ma proprio posso reclutare lo stesso fantastico resta e combatti perché non ho capito chi c'è qui ok comunque abbiamo reclutato un bel pezzo da 90 diciamo così cioè in realtà no è un medio però medio medio forte questo si uccide subito non l'avevo visto che là so c'è la torre ma questa torre qui la ah si si è quella che conosciamo benissimo va bene allora vediamo un po' che punto siamo col video io direi di provare ancora con un altro ah ok posso portargli le minacce di morte ah ok c'è questo 12 niente di che dicevo potremmo provare a reclutare ancora qualcuno o meglio più che reclutare qualcuno vorrei proprio vorrei proprio vedere un attimo la situazione allora c'è questo qui però è un 15 non ci crea grossi problemi invece queste due guardie del corpo di questo comandante c'ha questo 19 quell'altro spusate qual è ok e questo che è 26 questo bisogna assolutamente fargli qualcosa io direi di andare in questa direzione poi noi abbiamo una dovrei mettere anche ecco voglio rendere lui anche guardie del corpo e vediamo un po' perché marchia io posso avere una guardia del corpo solo questo mi rimane un po' se io faccio così c'ha c'ha il segno vediamo sì 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 effettivamente sì effettivamente rendi guardia del corpo va bene dai andiamo ma lasciate stare il mio capitano grande il nostro capitano scusa 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 vai scusate mi sono fermato qui ad aiutarvi non voglio che il nostro capitano nuovo abbia delle difficoltà poi io dove mi son buttato frecce intanto ok mamma mia c'è pieno di schifose schifosagini che non posso convocare nessuno quindi direi passargli un po' alla larga ah veleno mamma mia che che diavolieria di strada ho preso ma speriamo che porti da qualche parte però questa cioè dalla parte più che altro che ci interessa a noi ecco qui c'è un capitano quello lì che simbolo è ora che non me lo ricordo più di una guerra che cacchio è andiamo a vedere nella mappa infatti ho pigliato l'esercito ah c'è questa cosa qui avamposto e questo gru il furtivo se fosse una cosa veloce potremmo anche anche andare ah no ok c'è un banchetto in corso sento tampo di grog nell'aria ma qua ho visto qualcuno stremato che cos'è un graug di che cos'è ah qui c'è un altro karagor era questo ok grandi i karagor sono veramente delle bestie incredibili incredibili allora non me ne frega niente di questo qui noi stavamo andando da questo cerchiamo di non distogliere l'attenzione di non perderci volevo dire non puoi cambiare durante questa missione no dai non mi interessa questa missione porca miseria faccia dai scendo però perché che Magari devo andare su in alto Ci dovrebbe vedere decisamente meglio Potrebbe essere quello in teoria Può essere afferrato alla vista dei ghoul e colpi a distanza Mi sembra un'ottima mossa questa qui veramente Mi tocca di nuovo essere quello a parlare Beh prima lui ti massacrerà poi ti farà del male Infine ti ammazzerà E questi globe lo aiuteranno Allora diamoci dentro Ok si l'avevamo già visto Oh che stiazzo che mi ha tirato Non voglio Ma come ti uccido Ti schiacciare il flamingo Ecco Ok Posso prosciugare mentre combatto Che è tanti punti questa cosa Via Bellissime queste mosse E' brutto sparare le frecce da dietro Alle spalle Oh però per essere Un livello 15 Ma dove va Dove va Ganza Ho Oh Oh Non 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 mi vedrai Nel rifaccio Rosciugamento Aia No ma si è ricaricato Si è ricaricato quello stronzo E io non so dove sono i Non so dove sono i I fosi come si chiamano I miei guardi del corpo Non ne ho qualche idea Dov'è il capitano Cacchio Meno male Che ho potuto usare anche Questa mossa qui Mamma mia E' stata durissima Come Come umilia Ah no recluta Scusa Non l'avevo vista Eseguirò tutti i tuoi ordini Ehm Ritirati vai 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 Andiamocene E posizioniamoci Sempre sull'ultimo Che dovrebbe essere Questo Molto buono Molto buono Ehm Poi Andiamo di nuovo Sull'esercito Perché io non ho capito Come mai Ordina Rendi guardia del corpo Ok Non so perché Non Non mi dava la possibilità Di chiamarla Anche adesso Magari non ho capito Qualche meccanica Diciamo così Che ne so Massage La cia Ehm Grazie a tutti